musica Oggi proveremo la classe ingegniere musica 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 Eliminate the enemy team, round start I'm going to go to the other side eh, pallone, anzi non ho blackwood mamma che cazzo madre, insomma Sì Grazie a tutti Non sognare Non sognare Non sognare Tante cose È verino Che cosa è? 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 No, ragazzi Sì, che cosa è? nooo 8 di conseguenza la classe è buona che lenti e niente ma si levita il pivello grazie ehi salvi se la metto no no non 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 è lì nooo Ah, grazie. ok E' un po' di più traga 24 21 buono 1 2 3 3 4 4 5 5 6 8 8 9 9 10 12 12 13 13 14 14 14 14 Ah, come on, no. si 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 vabbiamo un po di un po un po un po un po un po un po Oh No Ok Arrr Ah Ma che culo No Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto